Samefast App è l'integratore della linea Samefast, che aiuta a gestire le alterazioni del tono dell'umore, ansia, stress e irritabilità, grazie alla formulazione a base di S-Adenosyl L-Metionina, meglio conosciuta come Same, la molecola del buon umore. La Same è una sostanza già presente nell'organismo, indispensabile per la sintesi e per il ripristino dei normali livelli dei neurotrasmettitori dell'umore, come serotonina, dopamina e noradrenalina. Con il giusto apporto di acido folico e vitamina B12, Samefast App aiuta a ritrovare il giusto tono dell'umore in modo naturale. Samefast App è indicato nei cambi di stagione, nei periodi di stanchezza e di affaticamento fisico e mentale. Come si assume una bustina o una compressa oro solubile al giorno lontano dai pasti? Il trattamento consigliato è di 40 giorni, l'equivalente di due confezioni da ripetere al bisogno.